Mi trovo a Parma, in via Sidoli, angolo via Hiroshima, dove la Chiesa Cristiana Evangelica, Assemblea di Dio in Italia, in ubbidienza al grande mandato di Gesù, il quale disse Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto, sarà condannato. Dicevo in ubbidienza al grande mandato di Gesù, vogliamo predicare l'Evangelo, la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E vogliamo invitarvi a partecipare alle nostre riunioni, dove tutte le sere, alle ore 20, ci riuniremo per cantare le lodi al Signore, per testimoniare di quello che Cristo Gesù ha fatto di meraviglioso nella nostra vita e soprattutto per annunciare l'Evangelo della Grazia, affinché chiunque crede in Cristo Gesù possa ottenere la salvezza, il perdono dei peccati e realizzare una nuova vita. Ti invitiamo a partecipare alle nostre riunioni. Dio ti benedica.